Tramite una delle copertine del nuovo fumetto tra Fortnite e Marvel è stato avvistato un personaggio della serie Marvel che molto probabilmente verrà aggiunto al gioco in futuro, e questo personaggio è proprio Spider-Gwen. Infatti lo possiamo vedere proprio in questa copertina, ed è molto probabile che questa skin possa arrivare all'interno di Fortnite nei prossimi mesi e magari possa anche essere l'ultima ricompensa dei fumetti tra Fortnite e Marvel, che sarebbe la skin bonus che andremo ad ottenere riscattando tutti quanti i codici che troviamo nei fumetti. Lascia like e iscriviti se anche tu vorresti questa skin in gioco.